E comunque ragazzi ne voglio approfittare per fartici fare qualche pagina del codice qua a Leonardo Non è più possibile aumentare la salute massima però vabbè No invece sì abbiamo ottenuto il quadro salute guardate là Incredible Non entra più nello schermo tra un po' la salute E allora ce ne torniamo a Firenze scusate la digressione ma serviva E allora andiamo a porta nord est così e vediamo cosa capita Tanto c'è da liberare 9 distretti quindi sicuramente una missione nei paraggi ci sarà Allora appunto Ricordo riparato Scusate un po' voi Scusa Mai Precisione chirurgica Bisogna uccidere il medico senza farsi vedere Potrebbe non essere così facile C'è un gruppo di persone qua mi posso appoggiare qui Potrei andando prendere la pistola una cosa abbastanza intelligente da fare E' proprio qua mi sono fregato con le mie stesse mani Egli è un uomo buono Forte di carattere e re Cerca di salvarci da noi stessi Ok E' della salvezza ciò che ci serve Prima che arrivasse Savonarola ci crogiolavamo nel peccato Gola Lussuria Orgoglio Avarizia Devo concentratissimo sono in questo momento Preso Preciso Che bello è che poi ti vedono Però ormai l'hai già ucciso Di un guaritore No Ho versato il sangue di un tiranno Arrogarmi un simile diritto Tra questo mondo e il prossimo Ero come sprofondato nel delirio E ora sprofonderai nella quiete La tua morte non sarà inutile Prequiescati in pace Via Torna anonimo E anonimi siamo Distretto liberato L'ospedale degli innocenti Torna a popolarsi E 1 su 9 ucciso